Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo per la nuova settimana. A partire dal lunedì il flusso umido atlantico tornerà a scendere di latitudine, favorendo quindi un incremento dell'instabilità ancora una volta sulle regioni del nord, in parte anche al centro. Infatti questa vasta struttura depressionaria riporterà condizioni di spiccata instabilità con il ritorno di pioggia, equazioni e temporali, oltre a un calo delle temperature. Soprattutto a partire da martedì e nei giorni a seguire. Per il momento invece al sud la situazione rimarrà un po' più stabile nel complesso soleggiata. Ma per ulteriori dettagli continuate ad aggiornarvi sull'app di Trebi Meteo.